Con la Lega per vincere, a Roma come a Milano, con Irene Pivetti capolista a Roma, con un governo che ormai è allo sbando, quindi l'occasione per i romani e per il centrodestra di unirsi, di riunirsi e di ricostruire Roma, Milano e l'Italia è troppo importante. Quindi io sono contento delle adesioni che abbiamo, della risposta che i romani ci stanno dando. A questo punto tocca a tutti i rappresentanti del centrodestra scegliere se vincere per mandare a casa Renzi o se tirare a campare. A me interessa unire, annodare, cambiare, rilanciare Roma dopo il disastro di Marino, rilanciare l'Italia dopo le false promesse di Renzi, non mi interessa chi sarà il leader e chi non sarà il leader, abbiamo dimostrato come Lega di saper fare più di un passo indietro, nonostante siamo il primo partito, quindi qua ognuno deve rinunciare a qualcosa nel nome del bene comune e del futuro dell'Italia, quindi penso che Berlusconi come l'ho fatto io in passato potrà farlo e glielo chiederò di cuore.